Buon pomeriggio, benvenuti a Fuori Gioco, domani c'è un grande derby, certamente sono due squadre, sono due nobili decadute, ma sono sempre due squadre dal grande blasone, dalle grandi città, dalle grandi tradizioni calcistiche, arriva il Foggia al Taranto, non arriva con i suoi tifosi, perché sappiamo per ordine da parte del prefetto non potranno assistere a questo bellissimo derby che domani sarà giocato allo stadio Erasmo e Iocovoni alle ore 15, a proposito tutti allo stadio, chi non ha fatto il biglietto può ancora farlo, c'è tempo sino a domani mattina, quindi bisogna andare a vedere questa squadra che mercoledì ha vinto con il Trani nel recupero del primo turno, disputando una buona partita e sfruttando soprattutto gli episodi. Come dicevo il derby è sempre bello, è sempre una squadra spettacolare, il Foggia di Padalino, perché è vero che ha un punto in due gare e ha subito sei reti, però ha disputato due buone partite al di là della sconfitta di domenica in casa. Tanti gli argomenti che andremo a discutere, con i miei due ospiti che vado subito a presentare, il nostro opinionista, il nostro professore, il professor Nunzio Di Biase. Ciao Nunzio, buon pomeriggio a te. Ciao, buon pomeriggio a tutti e a tre spettatori. Dal punto di vista tecnico, chi meglio di lui sa tutto del Foggia e anche tutte le squadre del Girone H è Andrea Novelli di Mondo Rossobo. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Ciao Daniele, un saluto a tutti i nostri tifosi che ci seguono. Andrea, parliamo subito di calciomercato, tu che sei esperto, tre nuovi acquisti da parte del Tanto, soprattutto del difensore centrale Giuseppe Occhipinti, che già domani potrebbe scendere in campo dal primo minuto, difensore centrale molto esperto, suecco proviene dal Messina dove ha totalizzato anche quattro reti, è stato preso proprio in virtù del ricorso respinto al nostro capitano Fabio Prosperi. A te Andrea. Sì Daniele, ieri c'è stata l'ufficializzazione dell'acquisto di Occhipinti, un difensore centrale di 32 anni, molto esperto della categoria ultima stagione a Messina dove ha totalizzato più di 30 presenze. Mentre oggi sono arrivati gli acquisti, l'ufficialità degli acquisti di Biondo e Papa. Biondi e Papa. Biondi che è un ex centrocampista del Cosenza dove l'anno scorso ha realizzato 15 presenze, classe 91 ed era alla corte di Tommaso Napoli. Mentre Papa era un giovane che faceva parte della Berretti del Taranto, classe 93, quindi un'Ande, che è stato acquistato nuovamente dal Taranto Calcio. Tre acquisti che rinfoltiscono sia la pattuglia degli over che quella degli under. Mercato chiuso, quando chiude ufficialmente? Eh, mancano pochi giorni e tutte si stanno veramente rinforzando. Dopo in settimana c'è stato il grande colpo del Matera che ha acquistato Di Gennaro, ma anche il Biscelle che ha acquistato l'ex capitano dell'Andrea Pierotti, un ottimo difensore. A proposito di Brindisi, parliamo anche della partita di questa sera, questo anticipo del girone H, questo derby in Ardò-Brindisi. Come arriva il Brindisi? Sì, il Brindisi ha totalizzato due punti frutto di due pareggi, uno in casa e uno fuori casa, in rimonta, soprattutto quello in casa che ha dato molto morale. La squadra è in buone condizioni, sta recuperando molti degli acciaccati e degli infortunati delle scorse settimane. Dall'altra parte c'è il Nardò che insieme al Foggia e al Taranto sono i cantieri più aperti delle squadre che fanno parte della Serie D. Infatti stanno ancora arrivando giocatori, infatti oggi presenterà tre dei nuovi acquisti, tra cui Marzocchi che è il centrocampista migliore che l'anno scorso giocava in Serie C2. Benissimo, rimaniamo sempre, fra un po' andremo a salutare Giuseppe Genchi, gli daremo ampio spazio e rimaniamo con il professor Nuzio Di Biase. Ora partiamo subito dalla probabile formazione a questo punto, perché abbiamo parlato di questo arrivo, professore, dovuto soprattutto al ricorso respinto delle tre giornate era nell'aria, anche il ricorso respinto. Il fatto che Prosperi non fosse graziato, io sinceramente non mi aspettavo assolutamente nulla perché era molto difficile che il nostro capitano godesse di uno sconto. Tuttavia la società ha inteso cautelarsi e ha fatto questo acquisto proprio dell'ultima ora, questo Occhi Pinti, che è un giocatore di grande esperienza, classe 1980. 32 anni. Un giocatore che nella sua carriera ha carcato molto spesso i campi di C2 e anche di C1, quindi giocatore di grande esperienza che potrà sicuramente essere molto utile in un campionato estremamente spigoloso e difficile. Sì, se possiamo vedere a questo punto la probabile formazione, andiamo subito a commentare, perché avevo parlato del nuovo acquisto Occhi Pinti, eccola qui. Quindi questa è la probabile, sempre probabile formazione che dovrebbe scendere domani allo stadio di Rasmo Giacomone contro il Foggia, Maraglino tra i pali, anche se aveva una caviglia un po' gonfia, però sembra che abbia recuperato, sicuramente lo rischierà tra i pali il mister Napoli. Poi Delbergiolo e Stigliano sono gli esterni bassi, Delbergiolo a destra e Stigliano a sinistra ecco, io ho messo, ho lasciato Terrenzio e Rosato e tra parentesi Occhi Pinti. Poi comunque Bufalino dovrebbe tornare dal primo minuto a destra, Zaccaro a sinistra, la coppia centrale di centrocampo dovrebbe essere quella formata dal BB Catalano che è stato il migliore in campo con il Trani mercoledì, affiancato dall'esperto Cordua. In avanti Cosa Sarli, dovrebbe sempre giocare Cosa e Sarli, anche perché tutti e due hanno realizzato un gol. Tra parentesi ho messo Noviello. Professor Nunzio Di Biasi, queste due parentesi, parliamo di Occhi Pinti e poi di Noviello. Ma Occhi Pinti non credo che lo rischierà già dal primo minuto, anche se chiaramente il giocatore è già pronto. Credo che confermerà la coppia centrale che tutto sommato a Trani ha ben figurato, mentre è probabile secondo me un avvicendamento Sarli-Noviello, perché Sarli nell'ultima partita è sembrato ancora molto in ritardo di condizione, al di là del gol bello che ha messo a segno nel finale, però in molte ripartenze è sembrato ancora molto lento, è bisognoso di recupero. Andrea, sulla formazione. Beh, la forma fisica si acquista giocando, però tre partite in una settimana, soprattutto per attaccanti che hanno un'età piuttosto avanzata, sono piuttosto parecchi, 90 minuti, quindi per tre volte in una settimana. Quindi ci potrebbe essere un avvicendamento, anche se mercoledì con il gol di Cosa e il gol di Sarli è veramente difficile togliere uno dei due dagli undici titolari. Per quanto riguarda Occhi Pinti, beh, i rodaggi della difesa non si amalgamano in pochi allenamenti, quindi io penso che Napoli opterrà ancora per la difesa composta al centro da Terrenzio e Rosato. Eventualmente chi rischia il posto tra Terrenzio e Rosato? Io credo Terrenzio, non so se siete d'accordo. Penso anche io, visto che Rosato è un under valido. Tra l'altro sta giocando molto bene. E sta giocando anche molto bene. Professore? Sì, penso pure io, perché comunque c'è questa regola dei quattro under che comunque va applicata, per cui necessariamente bisogna comunque fare delle scelte. Mentre potremmo anche trovare o è difficile Noviello dal primo minuto al posto di Bufalino? E giocare con questo tridente, tra virgolette? No, potrebbe anche rischiare su questa maniera un atteggiamento anche un po' più offensivo, perché Noviello l'ho visto abbastanza bene, benché fosse reduce da un infortunio, però si è mosso abbastanza bene, soprattutto nei primi 60 minuti. Poi nella parte finale ha denunciato chiaramente un calo fisico, ma era assolutamente normale. Però non mi è dispiaciuto. Benissimo, è il momento di Giuseppe Genchi. Giuseppe, dopo i saluti e i primi magari sms, dopo le statistiche, andiamo subito a ricordare l'albitro, il direttore di gara di domani tra Taranto e Foggia. A te Giuseppe. Ciao Daniele, buon pomeriggio, un saluto ai nostri ospiti qui in studio, soprattutto al pubblico rossoblu che ormai ci segue numerosissimo da casa. Questo è lo spazio dedicato appunto alle statistiche di questo derby. Partita importantissima dopo naturalmente il recupero di mercoledì che ha visto vincitore il nostro Taranto per due ore di a zero. Questa è la prima partita che verrà disputata dalle due formazioni in un campionato di lettanti. Infatti dei 31 precedenti sono stati disputati tutti in serie cadetta o in prima divisione attuale o vecchia serie C1. 18 sono le vittorie per quanto riguarda la squadra Tarantina, mentre 10 pareggi e soltanto 4 sconfitte subite dalla nostra squadra del cuore. 1927-1928 è datata la prima partita disputata tra le due formazioni dove ha visto vincitore il Taranto per sette reti a due, mentre l'ultima partita giocata tra le due formazioni è dello scorso campionato finita per due reti a uno in favore del nostro Taranto. Ahimè, l'anno scorso giocavamo in prima divisione con il nostro arcigno difensore Mohamed Colì e il centrocampista Giorgino. Un'altra piccola statistica, sempre riguardante il Foggia, sono ben cinque mesi che il Foggia non perde in fuori dalle mura amiche. Infatti l'ultima sconfitta del Foggia fuori casa è data da 24 aprile 2012, subita contro il Sorrento. Detto ciò vado a ricordare l'arbitro di domani che sarà Antonio Giuwa di Pisa. Benissimo, ora è il momento della scheda di fuorigioco. Il Taranto RGX, poi lo commenteremo qui in studio con i nostri ospici che sono il nostro opinionista, il professor Nuzio Di Biase e Andrea Novelli di Mondo Rosso Blu. Il Taranto RGX. Derby domenica allo stadio Erasmo Iacovone con il Foggia di mister Padalino per un match che si preannuncia molto divertente e ricco di gol per la mentalità vincente e offensiva dei due tecnici. Il Foggia infatti, anche se ha collezionato appena un punto in due gare, subendo tra l'altro sei reti, è una squadra votata all'attacco con mezzi tecnici discreti, anche se ancora un catiere aperto, con il problema dello stadio Zaccheria. Il Taranto invece è reduce dalla vittoria di Trani nel recupero del primo turno, disputatosi mercoledì pomeriggio. La squadra di Napoli ha mostrato carattere e orgoglio dopo la pesante scoffetta interna con il Gladiator e questa volta ha sfruttato gli episodi a favore, finendo con l'ottenere tre punti importanti per il morale, visto l'avvio di campionato molto difficile. La sensazione avuta in queste due gare è sicuramente sarà così anche domenico con il Foggia e in quasi tutte le altre gare e che in questo campionato regna tanto equilibrio che viene poi interrotto a favore della squadra che riesce a sfruttare una pallina attiva o un episodio di gioco, accompagnato anche da un pizzico di fortuna. Il Taranto però deve giocare sempre le sue gare con la stessa intensità, applicazione tecnico-tattica e voglia di vincere, mostrata a Trani. La differenza poi, come detto in precedenza, la faranno gli episodi alla fortuna. Capitolo formazione. In difese al centrocampo sarà il Taranto di Trani, con l'unica novità che riguarda il rientro dal primo minuto di Bufalino, mentre Noviello, all'esordio mercoledì con la maglia del Taranto, dovrebbe accomodarsi in panchina o giocare in avanti con Cosa, al posto di un appesantito Cosimo Sarli. Appuntamento a domenica, quindi, per un piccolo derby, visto la categoria in cui si gioca, ma un derby sicuramente molto divertente. Un derby molto divertente. Andiamo a vedere la grafica di fuorigioco. Questo dice oggi, a proposito della partita di domani, ecco qui, derby divertente. I due tecnici, Napoli, Ex, Zemaniano. Zemaniano, anche Padalino, se non sbaglio, aiutatemi un po'. Comunque ha giocato nel Foggia, credo che era con entrambi di Zema, quindi sarà derby divertente. Lo spettacolo è assicurato, perché sono luce di Biasi domani allo stadio di Spermone. Ma alla luce di quello che si è visto in queste prime due giornate, credo di sì, perché il Foggia è squadra che gioca e lascia giocare. Basta vedere, insomma, i gol fatti e incassati, perché cinque reti all'attivo, sei reti al passivo, vuol dire che è una squadra che segna tanto, ma subisce anche molto. Noi dobbiamo essere più attenti e soprattutto siamo chiamati a una gara più giudiziosa rispetto a quella che abbiamo perso in casa domenica scorsa e dobbiamo fare la cosiddetta partita. Quindi è un Taranto che finora è in trasferta ben figurato, considerando il doppio impegno con il Trani, ma che va visto alla prova del 9 adesso in casa. nella fase di impostazione, quando devi fare la partita. Ci sono tantissime altre domande. Io vado subito a Giuseppe Genchi e poi andiamo in pubblicità. Ci sono degli impegni pubblicitari. Giuseppe, gli sms che sono arrivati, andiamo a leggere. Primo spazio dedicato al pubblico, subito 347 48 52 99, questo è il numero, il servizio sms. Ciao, dice questo tifoso, giustizia è fatta domani, tutti allo Iacovone per assistere un grande derby. incitiamo sempre i nostri gloriosi colori, rosso-blu. Catalano come De Rossi, sempre in campo. Questa è l'opinione del tifoso, mentre un altro ha meritato la vittoria contro il Trani. Anche se la condizione non è ancora al meglio, il gruppo mi sembra più che competitivo. Mentre questo Massimo Pastore, un saluto da Andrea e a Daniele, con stima e con rispetto. Grazie, ora c'è la pubblicità, poi dovremmo avere, rientriamo possibilmente, dovremmo avere un collegamento telefonico con il direttore sportivo del Foggia, Giuseppe Di Bari, ex direttore sportivo del Bari, scusate, dell'Andrea, e anche del Martina Franca, quindi vediamo un po' cosa ci dirà di questa giovane formazione. Ora c'è la pubblicità, a tra poco con fuorigioco. Questo programma è offerto da Torna il latte della centrale del latte di Taranto Gealat, l'alta qualità del latte, dalla terra delle gravine. Un sorso di salute per iniziare bene la giornata. Buon latte a tutti! Dea Impianti, azienda leader negli impianti elettrici, elettronici e fotovoltaici. Il know-how acquisito nell'ambito delle energie rinnovabili consente una serena installazione e soprattutto un investimento di sicuro guadagno per un periodo di 20 anni. Dea Impianti realizza a chiavi in mano occupandosi nella sua completezza di tutto il progetto, dalla verifica degli impianti all'assistenza e al rendimento degli incentivi previsti dalla legge. Dea Impianti, energie rinnovabili con affidabilità, sicurezza e professionalità. Dea Impianti, accendiamo nuove energie. Quindi posso stare tranquillo? Tranquillo, tranquillissimo. Hai 15 mesi di tempo e il 15% di sconto. Vado, stavo sognando che Nuova Redo al 15% di sconto aggiunge ai 15 mesi di finanziamento a tasso zero. No, non è un sogno. Promo 15 continua e aggiunge al 15% di sconto 15 mesi di finanziamento a tasso zero. Quindi non è un sogno. Hai sognato, non hai sognato. Da Nuova Redo tutto è possibile. MAD SRL Lavori edili e stradali Via per Martina Franca chilometro 5500 Taranto Ecologica Sud Raccolta, trasporto e stoccaggio oli usati, batterie e oli vegetali esausti. Raccolta rifiuti speciali urbani, gestione servizi ecologici e pulizie. A Taranto in Via Consiglio 45. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro programma fuori gioco e la vigilia di questo derby importante, interessante, questo Taranto Foggia, queste due nobili decadute che abbiamo parlato di derby divertenti. A proposito di derby divertenti, abbiamo il collegamento telefonico con un direttore sportivo molto stimato, soprattutto in Lega Pro, ha lavorato a Martina e anche ad Andrea con il nostro indimenticabile tecnico Aldo Papagni, si tratta di Giuseppe Di Bari. Buon pomeriggio direttore, grazie al collegamento. Buon pomeriggio a voi, no, mi corrego velocemente, no, no, il direttore sportivo non era Martina e Riccardo Di Bari, sono un bel pericolo. Va bene, Riccardo, è un errore che ho fatto, pardon, è un errore che ho fatto, pardon, una mattinata un po', voglio dire. nessun problema. Va bene, allora che Foggia troveremo domani allo stadio Rasmo Iacovone? Ma sicuramente è un cantiere aperto, è un Foggia che sta cercando di mettersi al posto nel minore dei modi, considerando anche il ritardo per quello che è successo sia a noi che anche al Sarano, quindi penso che siano due cantiere aperti, però un Foggia in cerca di un maggior aspetto migliore in questo momento considerando le difficoltà che comunque vi tenuta più che altro in questo momento. E il Foggia, che Foggia sarà quello domani allo stadio di Rasmo Iacovone? Quello visto, quello bello, io ho visto tra l'altro le lights con il Gladiator o quello che ha perso in casa sette giorni fa con il Francaville. Io mi auguro che sia un Foggia, un buon Foggia, un Foggia propositivo come al solito, un Foggia che sicuramente è sfortunato in occasione della partita di domenica, è un Foggia che sta crescendo. Poi è ovvio che il campo dovrà dire la sua. Sicuramente di pronto troveremo anche una buona squadra che viene da un buon risultato di mercoledì a Trani. Sicuramente dal punto di vista mentale sarà bene. Senta, sulla formazione so che comunque è un cantiere aperto, avete dei giocatori in prova, non so se sono stati ufficializzati i contratti, ecco, che Foggia vedremo? Lo stesso di sette giorni fa per ciò che riguarda la formazione o ci saranno delle novità? La Rosa per o male sarà ultimata nelle prossime settimane. Sicuramente sarà un Foggia l'allenatore tirerà i propri giommi domani non voglio fare pretattiche assolutamente le valutazioni le fa lui in questo momento mi sto occupando più che altro di mettere su una buona di allestire una buona rossa e cercando di mettere il meglio a disposizione una domanda per il direttore sportivo la volontà la volontà è quella di dare partiglio a tutti cercando di fare il meglio possibile è normale che si paga tasse in questo momento considerando le difficoltà nell'inizio il campionato è lungo quindi sicuramente ci sarà l'opportunità di correggere qualora ci verificassero i mediatori comunque il nostro campionato sarà un campionato vero importante Benissimo sul Taranto cosa ci vuol dire sicuramente anche il Taranto è un cantiere aperto anche se ora insomma sta definendo un po' la propria rosa il tecnico Napoli sul Taranto beh il Taranto vabbè c'è un caro amico che come allenatore che è tomato Napoli poi parliamo di una società che ha anche un passato come il Foggia quindi della stessa condizione del Foggia quindi sicuramente anche il Taranto dovrà capire la sua non penso che dovrà solo passeggiare di un'azione del suo campionato ecco perché secondo me alla quintina sarà una bella vostra ma bisogna stare attenti si alzano come a tante altre squadre che comunque sono partite prima di noi e quindi sarà un campionato molto a vincere le faccio un'ultima domanda quali sono le sue favorite poi sul fatto che non potranno assistere i vostri tifosi non potranno assistere domani al match Taranto Foggia ecco e poi ci vuoi parlare anche so del problema del Pino Zaccheria infatti domenica scorsa avete giocato a porte chiuse sì purtroppo abbiamo un problema a stadio che ci finanzia tantissimo perché giocare a porte chiuse non è un bel vedere però spero che si possa risolvere nel più breve tempo possibile riguardo la mia favorita o le mie ci sono tante squadre che puntano a far me a vincere il campionato tra questi sono il Maghera il Biceglie Ispia Nonopoli ci sono un bel po' di squadre ho escluso Taranto e Foggio però secondo me ci sono due squadre che anche partendo in ritardo si faranno sentire grazie per i tifosi i tifosi per i tifosi i vostri tifosi che hanno per i tifosi questo questo è un grande ecco per me è una sconfitta perché poter avere tutte e due le tifose lì sarebbe stato un bel vedere quindi in questo momento ci perde il calcio grazie grazie direttore grazie grazie a voi grazie ringraziamo il direttore Giuseppe Di Bari e non Riccardo Di Bari molte volte facciamo anche noi confusione un lapsus capita capita anche a noi allora Andrea parliamo del Foggio della propria formazione ha fatto capire benissimo il direttore che comunque sarà la stessa formazione che domenica ha perso in casa con il Francavilla Sursini vogliamo ricordare però che il Foggia ha giocato a porte chiuse in quanto ancora ci sono dei problemi allo stadio Pino Zaccheria quindi andiamo a ricordare un po' la formazione il modulo che usa Pasquale Padalino sì il modulo è un classico 4-4-2 anche perché la squadra è in fase di rodaggio i giocatori arrivano addirittura alcuni firmano e rescindono il contratto dopo brevi settimane infatti l'esempio ultimo è quello di Digno un difensore un centrocampista adattato al centro che aveva realizzato le ultime due partite con il Foggia che venerdì ha rescisso il contratto per motivi familiari quindi Padalino deve anche rivedere un po' la fase difensiva visto che sia col Gladiator che col Francavilla sul Sini oltre ad aver incassato ben sei reti però ne ha realizzate quattro quindi è una squadra che in fase di ripartenza visto che di gioco ancora se ne vede ben poco un po' come il nostro Taranto che ha difficoltà a giocare a impostare le azioni però in fase di ripartenza è veramente forte quindi deve rivedere un po' l'assetto tattico in porta giocherà un 94 che è il portiere Mormile che hanno acquistato dalla primavera della Regina in difesa giocherà Basta Esposito e sicuramente Digno sarà rimpiazzato dallo Iacono che è uno dei pochi difensori attualmente in rosa il centrocampo invece sarà formato dai due centrali tra cui Spic e Capitano Agnelli che l'anno scorso era nella formazione estense della Spal vero punto di forza della squadra un ottimo centrocampista mentre in attacco ci sarà il duo Giglio che l'anno scorso era all'Aquila dove ha realizzato 5 gol in 21 presenze e la Porta che invece era a campo basso e quest'anno ha già realizzato due reti in due partite quindi il reparto offensivo che non presenta Under è da tenere d'occhio perché i pericoli possono nascere prettamente da quella zona benissimo andiamo da Giuseppe Genghi poi torniamo dal professor Nuzio di Biassi Giuseppe andiamo a leggere tutti gli sms che sono arrivati subito Daniele dando spazio al pubblico rosso-blu che stai miando tantissimi messaggi per questo ogni volta non faccio altro che ringraziare come ogni sabato tutti coloro che ci stanno seguendo come questo tifoso che ci scrive con il Trani abbiamo giocato una buona gara ma ora il derby non è da sottovalutare rimaniamo concentrati dal primo all'ultimo minuto e otterremo di certo un buon risultato forza cuore rosso-blu mentre continuiamo leggendo il messaggio di Achille che scrive un ottimo risultato ottenuto contro il Trani fa ben sperare in un derby difficile da vincere forza Taranto ciao sono Antonello da Martina e sono un tifoso del Taranto voglio chiedere soltanto una cosa ai nostri giocatori è di lottare sempre e non risparmiarsi mai anche se alla fine della partita il risultato non sarà soddisfacente con la maglia sudata saranno comunque e lo stesso applauditi forza cuore rosso-blu Sì professore Nuzio Di Biasi allora ultimiamo il discorso sul Foggia dicendo che parlavamo anche con Novelli Padalino schiera quasi tutti gli under tra il portiere e la difesa però dal centrocampo in attacco è una squadra molto forte quindi i gol ne fa tanti poi certamente ne subisce perché essendo tutti gli under comunque rimane una partita molto difficile e come ho detto io nella scheda non solo lo ha dimostrato la partita con il gladito ma anche quella di Trani dove abbiamo sofferto tantissimo che la differenza la fanno gli episodi non c'è una squadra che domina l'altro poi vedremo poi le altre squadre capace che arriva qui il Matera che è uno grande squadrone però da quello che stiamo vedendo anche vedendo gli highlights e le altre partite sono sempre gli episodi a fare la differenza sono assolutamente d'accordo è un campionato molto equilibrato dove l'episodio la giocata può essere assolutamente decisivo per quanto riguarda il Foggia dico che l'aver fatto la scelta non so se sia una scelta dettata ancora dalla formazione incompleta credo di sì di schierare tutti gli under in difesa si vede perché è una squadra che ha subito tanto del resto anche il Taranto è corso subito ai ripari perché abbiamo visto la differenza senza nulla togliere a Dedeo che ha ben figurato nella prima gara di Trani abbiamo visto la differenza quanto conti avere un portiere di livello che non si anger che non si anger Marallino mercoledì scorso ha assolutamente salvato il risultato perché soprattutto nel secondo tempo in quel triplo intervento è come aver segnato un gol quindi la squadra poi proprio da quell'episodio ha trovato nuova linfa nuovo vigore e ha chiuso la partita sul 2-0 però qualora noi fossimo andati in svantaggio a quel punto della partita non so poi come ne saremmo usciti quindi è importante avere secondo me tutta l'ossatura della squadra portiere centrale un centrocampista di regia e almeno un attaccante giocatori over poi il resto si può anche adattare certamente certamente così andiamo ancora da Giuseppe Genghi andiamo a leggere altre semestre sta lavorando tantissimo Giuseppe a raccogliere i vostri messaggi da casa noi tra l'altro lì inoltriamo tutti questi messaggi andiamo Giuseppe nuovamente voce al pubblico rosso blu Daniele sempre al numero 347 48 52 2 9 9 Antonio 58 ci scrive un saluto a tutti facciamo lavorare la società in tranquillità non facciamo come al solito forza Taranto mentre un tifoso scrive mister Napoli è un buon allenatore con un grande carisma fino alla fine avrà una rosa molto competitiva e vedremo quanto sarà in grado di guidare il nostro Taranto poi un tifoso scrive ciao sono Giuseppe come ben sappiamo il derby non è una partita come tutte le altre dobbiamo essere sempre concentrati e conquisteremo sicuramente un ottimo risultato forza Taranto ciao sono un tifoso del Brindisi e mi chiamo Ciro voglio augurare al Taranto di raggiungere il più presto possibile le categorie che più li spettano naturalmente mette il tifoso tra parentesi naturalmente insieme al Brindisi e che il nostro derby vinca il migliore un saluto anche a Ciro tifoso del Brindisi si in bocca al lupo anche a tutti i tifosi del Brindisi e alla squadra del Brindisi un augurio appunto che possono disputare un buon campionato tra l'altro ci seguono un po' in tutta Puglia anche in alcune zone della Basilicata poi parleremo appunto anche della Matera che veramente sta facendo le cose alla grande Matera a punteggio pieno è arrivato di Gennaro parleremo un po' di queste squadre che stanno sorprendendo anche se Matera era una delle accreditate a vincere il campionato Andrea Novelli c'è una notizia da parte della direzione sportiva di Bluestar che dice che il tanto sta per concludere con l'attaccante Simone Cavaliere classe 80 mentre è difficile chiudere per Sani che notizie c'hai in merito? Sì per quanto riguarda Sani che si sta allenando con il Licata nella sua Sicilia c'è stato un avvicinamento tra le parti però tra domande e offerta si è ancora distanti Sani vorrebbe ritornare a vestire la casacca rosso-blu forse è proprio lui l'attaccante che è il Bon Giovanni ha detto di definire tra virgolette il fratello di Etò però per il momento non c'è accordo tra le parti e manca più o meno una settimana alla conclusione del mercato Sani è un ottimo giocatore sarebbe un under quindi l'abbiamo vista all'opera nell'ospensione l'anno scorso con l'attrizium con Davide Dionigi è in Coppa Italia ad Andria e veramente aveva ben figurato quindi magari può esserci in settimana un avvicinamento tra le parti Hai notizie invece di questo Cavaliere? Troviamo le notizie Giuseppe Genghi di Simone Cavaliere classe 80 in diretta ora andremo a vedere tanto ormai professore qui è tutto online ormai con internet è giusto che sia così si vanno confusione di diretti sportivi calciatori ormai tutto online in conferenza domenica appunto Nardone aveva precisato che il Taranto si sarebbe rinforzato o almeno un acquisto per ogni reparto è arrivato il centrocampista classe 91 biondi quindi adesso manca veramente la ciliegina sulla torta che sarebbe un altro buon attaccante potrebbe professore però forse manca a mio avviso un centrocampista sono assolutamente d'accordo soprattutto che ha detto i tempi nella fase di impostazione si sa scusate professore che al centrocampo si vincono e si perdono le partite è una zona molto importante una zona di vragge abbiamo visto con piacere che questo catalano sembra un giocatore importante essendo under quindi questo acquista ancora più valore però ritengo giusta la tua riflessione in quanto un campionato così lungo necessita di rincalzi importanti nella fascia proprio di centrocampo che è quella dove si vince o si perde molto spesso Cordua ha ben impressionato nella gara di Trani di mercoledì scorso però ricordiamo che è un giocatore del 76 un giocatore che ha una certa età 36 anni e quindi potrebbe alla lunga avere qualche problema di tenuta quindi credo che la società farebbe bene a cautelarsi inserendo nel suo mosaico un giocatore con le stesse caratteristiche che possa eventualmente sostituirlo benissimo prima di arrivare in pubblicità torniamo da Giuseppe Genchi ci sono notizie allora di Simone Cavaliere classe 80 Sì Daniele Simone Cavaliere è un classe 80 dai statistiche che vedo qui su internet non è un grandissimo goliador però ha collezionato numerose presenze in serie C1 C2 e anche in serie D come per esempio possiamo vedere che l'anno scorso ha disputato un campionato con l'Aquila a calcio in serie C2 collezionando 12 presenze e 3 reti mentre due anni fa nel Sante G10 ha collezionato in serie D 21 partite 8 gol mentre la stagione dove ha collezionato più partite e ha messo a segno più gol 9 reti è stato il campionato 2008-2009 con l'Andria quindi proviene dall'Aquila hai detto quante gare 12 presenze e 3 reti benissimo al di là del fatto che a me piacciono le Marche per i nostri giocatori sono sempre Abruzzo Marche Marche Abruzzo pubblicità tra poco con fuorigioco questo programma è offerto da Progettazione installazione riparazione e manutenzione di impianti elettrici elettronici antincendio fotovoltaici civili ed industriali Dea Impianti Via della Transumanza 5 Taranto Ecologica Sud raccolta trasporto e stoccaggio oli usati batterie e oli vegetali esausti raccolta rifiuti speciali urbani gestione servizi ecologici e pulizie a Taranto in Via Consiglio 45 Cascarano dal 1896 veste i tuoi desideri con le migliori calzature per uomo donna e bambini Cascarano Sport leader nell'abbigliamento sportivo unica sede a Taranto in corso Piemonte 86 MAD SRN Lavori edili e stradali Via per Martina Franca chilometro 5500 Taranto Torna il latte della centrale del latte di Taranto Gealat l'alta qualità del latte dalla terra delle gravine un sorso di salute per iniziare bene la giornata buon latte a tutti quindi posso stare tranquillo tranquillo tranquillissimo hai 15 mesi di tempo e il 15% di sconto vado sto sognando che Nuova Reda al 15% di sconto aggiunge i 15 mesi di finanziamento a tasso zero no non è un sogno promo 15 continua e aggiunge al 15% di sconto 15 mesi di finanziamento a tasso zero non è un sogno hai sognato non hai sognato dal Nuova Reda tutto è possibile in diretta con il nostro programma fuori gioco se possiamo vedere la grafica ancora derby che sarà sicuramente divertente domani allo stadio Erasmo Iacovone arrivano due discepoli di Zeman il nostro tecnico Tommaso Napoli e il tecnico del Foggia Pasquale Padalino prediligono un calcio offensivo anche il Foggia ha segnato ha subito Sereti però ne ha realizzati 5 ha pareggiato 3 a 3 contro il Gladiator andando per due volte in vantaggio poi ha anche conquistato il 3 a 3 allo scadere su un calcio di rigore poi ha perso domenica col Francavilla sul segno nei minuti finali quando eventualmente la squadra di Padalino stava cercando il successo pieno mentre da ricordare la sconfitta interna del tecnico Napoli con il Gladiator per 3 reti a 0 però si è subito rifatto il tecnico Ionico vincendo a Trani in un campo comunque difficile perché il Trani rimane una buona squadra per 2 reti a 0 quindi ci aspettiamo tanto spettacolo domani allo stadio Erasmus Comune invitiamo i tifosi che ancora non hanno il biglietto a farlo hanno tempo sino a domani mattina domani io credo sino a poche ore prima della partita porta buon tempo tutto sommato anche se c'è un po' di pioggia però alla fine un tempo eco variabile si può andare al campo andate con le famiglie con i bambini perché poi tra l'altro questo è il tema principale della società una società che ha aperto un po' a tutta la città ma soprattutto alle famiglie questo è il taranto di tutti a differenza della passata stagione allora professor Nuzio Di Biasi ho parlato dei tecnici Napoli e Padalino parliamo del taranto la cosa importante però l'ho visto anche mercoledì avere un proprio gioco e questa squadra nelle prime partite nelle prime tre partite mettiamoci anche quella la prima di Trani non valida quella annullata comunque secondo me è sempre una vittoria quella è una squadra che non butta mai la palla sempre palla a terra forse troppo infatti mercoledì pochi minuti della fine ancora teniamo la palla in linea nella nostra area di differenza certamente questa è la mentalità del tecnico devo dire che ho notato anche degli aspetti molto positivi perché comunque nel finale quando si vinceva 1-0 prima che scaturisse l'azione del 2-0 ho visto anche che in qualche circostanza soprattutto i giocatori più esperti hanno fatto proprio buon possesso palla buon possesso palla ma hanno fatto appello a tutta la loro esperienza e anche all'essere un po' marpioni perché ho visto Cordua che si è buttato un po' a terra eccetera questi purtroppo sono anche elementi che in un campionato duro e difficile come quello del girone H della serie D vengono utili perché molte partite bisogna anche tirarle proprio con le unghie e quindi è necessario avere quei giocatori di esperienza che come Cordua come Cosa che sappiano prendere per mano la squadra essere decisivi nei momenti importanti e dare quel pizzico di esperienza e di cinismo che forse in qualche altra occasione è mancato Andrea che partita ti aspetti domani che Taranto sarà chi farà la partita perché anche ho detto il Foggia c'è anche personalità c'è un buon centrocampo buon attacco è una squadra offensiva che tema tattico ti aspetti Sì, domani sarà una partita che vedrà i due centrocampi delle due squadre opporsi e sulla carta e anche a nomi prevale per l'esperienza anche quello del Foggia su quello del Taranto però il Taranto è costretto anche spinto dai tifosi che saranno numerosissimi domani al campo a fare la partita e cercare di sbloccare subito il risultato perché appunto come ben detto in questo campionato sono gli episodi a fare la differenza è una squadra giovane con molti under in campo trovare il vantaggio subito significa poi continuare la partita sulle ali dell'entusiasmo invece passare e poi prendere un gol può succedere un po' come è successo con il Gladiato cioè prendere poi il secondo e il terzo gol infatti ritornando alla partita di Trani se Marallino non avesse compiuto quel duplice miracolo forse il Taranto ne avrebbe presi altri due o tre di gol però poi proprio quel miracolo ha dato la forza anche ai più giovani di spingersi e trovare poi il doppio la rete di cose la rete di sali che hanno chiuso la partita domani sarà una partita tra due squadre quindi che non hanno ancora un vero e proprio gioco anche se il Taranto dimostra di avere delle buone personalità al centro campo vedi Catalano che è un ottimo under però sono due squadre che fino ad ora hanno punto in contropiede e in fase di ripartenza quindi magari la prima squadra che sballe quindi speriamo il Foggia può essere punita anche perché in attacco ci saranno quattro attaccanti due per parti veramente esperti per la categoria benissimo Giuseppe Genghi ancora sms andiamo a leggerli e poi andiamo a vedere il prossimo turno andiamo Giuseppe nuovamente spazio al pubblico rosso-blu come questo tifoso che scrive riempiamo lo Iacovone in un derby difficile e sosteniamo sempre i nostri giocatori forza Taranto per sempre al tuo fianco un tifoso ci scrive un grande Maralino ci ha permesso di vincere contro il Trani ora continuiamo a fare risultato mentre Enrico questo tifoso ci pone alcune domande come per esempio vi faccio delle domande come mai il Taranto non ha chiuso più il ritorno di D'Alterio poi naturalmente questa domanda poi la giro anche agli ospiti qui in studio e a te Daniele mentre poi sapete che fino a fatto Vice Domini lo accostavano tempo fa al Taranto ciao a tutti di Carlo Vice Domini sappiamo ben poco anche se era in trattativa oltre al Taranto anche con la Salernitana quindi sinceramente non so si è affermato con la squadra campana mentre ultimo sms Marallino portiere di un'altra categoria sarà la nostra arma in più speriamo che sarà veramente l'arma in più l'abbiamo visto già mercoledì per ciò che riguarda d'alterio so che la casertana società in cui è tesserato il calciatore ha alzato il prezzo sappiamo che noi abbiamo un budget limitato e fa bene il dottor Tambone a non avere fretta ma prende quei calciatori che hanno fame di calcio e di vestire la gloriosa maglia rosso-blu andiamo a vedere ora il terzo turno del girone H del campionato Nazione Dilettanti c'è l'anticipo Nardo Brindisi l'abbiamo parlato già in precedenza con Andrea Novelli il big match e Pomigliano-Matera Andrea big match questo Pomigliano e questo grande Matera sì il Pomigliano ha mantenuto l'ossatura degli anni passati quindi è una squadra già rodata ecco perché anche i risultati nelle prime giornate sono stati favorevoli alla squadra campana mentre il Matera è la vera corazzata insieme l'Ischia quindi sarà un ottimo un bello scontro anche perché farà sarà farà scalpore anche sarà importante vedere come si muoveranno anche gli ultimi acquisti del Matera e se Di Gennaro partirà titolare professore l'altra partita che ci interessa proprio perché se non sbaglio il prossimo avversario del Taranto sarà Biceglie andremo a Biceglie questo derby pugliese tra Grottaglie e Biceglie anche se il Grottaglie è poca cosa quest'anno il Grottaglie come noi è partito nettamente in ritardo perché anche loro hanno avuto grossi problemi societari possiamo entrare in studio c'è stato il passaggio di Cira C che ha passato la mano dopo diversi anni per cui la società grottagliese ha avuto un'estate molto calda non come la nostra ma quasi ritengo che sulla carta il Biceglie parta nettamente favorito perché ha un'ossatura e un impianto di squadra nettamente superiore ai grottagliesi però nel calcio non si sa mai cosa può succedere quindi noi ci auguriamo che il Grottaglie possa in qualche maniera fermare il Biceglie anche perché sarà il prossimo avversario che andremo ad incontrare certamente è una partita molto difficile per la squadra di Casu mentre per ciò che riguarda questo derby Lucano strano il calcio insomma il potenza era accreditato di più da Francavilla Sustini invece Francavilla Sustini ha 6 punti domani c'è proprio Francavilla Sustini potenza ecco su questo derby Lucano potrebbe ancora fare punteggio pieno questa squadra Andrea è il professore potrebbe però dobbiamo anche dire che come abbiamo ricordato in altre circostanze per dare dei giudizi definitivi bisogna speciare ancora credo 7-8 gare certo adesso c'è una mucchiata in testa ma credo che se possiamo vedere la classifica grazie fra 30-40 giorni avremo la situazione molto più chiara e si delineerà molto meglio quella che sarà poi la vetta con le squadre che si giocheranno sino a maggio il primato è ancora un po' presto Andrea l'altra squadra capolista a punteggio pieno è il Monopoli che domani ospite il Campagna che ha 4 punti un'altra bella partita questa sì il Monopoli che è a punteggio pieno ha un ottimo attacco tra cui De Tommaso ex Martina è una delle candidate a dare fastidio alle squadre favorite per la vittoria finale del campionato che come sappiamo solo la prima va direttamente nella seconda divisione poi della Lega Pro e gli altri invece faranno un play-off e il vincitore del play-off può sperare in caso di ripescaggio però come si sa con la riforma dei campionati che l'anno prossimo Macalli vuole ridurre e formare un'unica Lega Pro sarà veramente difficile che qualche squadra verrà ripescata quindi quest'anno bisogna a tutti i costi vincere il campionato per salire di categoria per quanto riguarda Francavilla sul Sinni Potenza il Potenza sin dall'inizio dell'estate aveva ha fatto il piano societario puntando sui giovani quindi ha una salvezza tranquilla mentre Francavilla sul Sinni che è presente in attacco Varriale ex Brindisi e Cocchene ex Lecce sono due attaccanti molto forti della categoria infatti l'abbiamo visto all'opera contro il Foggia domenica scorsa tra cui Varriale che ha fatto un Eurogoal al 95esimo che ha permesso la vittoria in terra da una Mentre la squadra di Capilongo grande favorita del torneo parlo dell'Ischia Solisola Verde gioca in casa con l'Inter Napoli sarebbe la Putiolana se non sbaglio tutti questi nomi quindi rimane sempre una grande squadra l'Ischia Solisola Verde professor Di Biase e poi Andrea Novelli all'Ischia è una delle favorite assieme al Matera credo che siano le due squadre che sulla carta siano quelle più attrezzate non trascurerei però squadre come il Monopoli e lo stesso Biceglie che sicuramente possono dire da loro e poi dobbiamo vedere cosa succede con le due nobili decadute benissimo siamo alle battute finali io vado da Giuseppe Genghi andiamo a raccogliere l'ultimo sms Giuseppe Sì Daniele ultimi messaggi anche voglio aggiornarti di un altro corpo di mercato che ha messo a segno il Nardò e Nunzo Maiella classe 86 attaccante un buon centravanti da quello che dicono anche i vari siti mentre vado a leggere subito gli ultimi sms arrivati qui alla nostra redazione di fuorigioco tutti Allo Iacovone scrive questo tifoso per cantare i nostri colori e sostenere la nostra giovane squadra siamo uniti e andremo avanti Giuseppe andiamo a vedere in diretta poi troviamo poi i convocati del Taranto poi così vediamo un po' nella rusa se c'è anche occhi pinti giusto una curiosità c'è altri messaggi? Sì l'ultimo leggo proprio l'ultimo messaggio arrivato io ero uno di quelli che lo scorso anno mi sono ripromesso di non andare più allo stadio ma il richiamo del Taranto è troppo forte e ho fatto anche quest'anno l'abbonamento forza Taranto Taranto amore infinito questo è l'ultimo sms arrivato bisogna domani andare allo stadio di Rasmio Copone e portare anche le bandiere un po' di sharp insomma l'anno scorso proprio non c'era niente di rosso blu quest'anno è cambiato un po' tutto non c'è l'obbligo della testa del tifoso ci sono sicuramente degli obbligo che non sono più stringenti parliamo di questo pubblico Tarantino nonostante la serie D professore 1300 testere staccate anche se come dicevo domenica aspetto quel migliaio dell'anno scorso che rappresentava lo zoccolo duro che domani faccio il biglietto se non vuoi fare l'abbonamento perché dobbiamo essere di più domani allo stadio credo che se la squadra riuscirà a essere elemento trainante sì perché è vero che il pubblico deve incitare deve sostenere però alla fine io credo è sempre la squadra che trascina il pubblico certo il tifoso Tarantino è un tifoso passionale quindi io ritengo che se la squadra dimostrerà di meritare la fiducia come sta apparendo da queste prime uscite il tifoso risponderà cioè andrà allo stadio e inciterà la squadra del resto le presenze allo Iacovone pur in serie D sono presenze di tutto rispetto che sono da paragonare quantomeno a piazze di prima divisione se non oltre non ti chiedo il pronostico però prevedi una partita ricca di gol io sì comunque sarà una bella partita spettacolare credo di sì perché sono due squadre che amano giocare i tecnici sono due tecnici che hanno un passato anche che parla chiaro visto che hanno lavorato con Zeeman anche se nel calcio è importante anche l'equilibrio certo quindi bisogna attaccare ma bisogna attaccare con giudizio con giudizio soprattutto come abbiamo detto cercare di sfruttare gli episodi soprattutto io spero di sfruttare di più queste palle inattive abbiamo buttato veramente al vento molti calci di punizione soprattutto la partita anche i corner devono migliorare ho visto che i corner c'è uno schema sul primo palo c'è uno schema sul primo palo evidentemente loro cercano uno schema devono migliorare in questo devono sicuramente migliorare dobbiamo un po' migliorare tutti Andrea Novelli le tue sensazioni finali in questo derby di domani poveriggio lo stadio Erasmo Iocovonia ricordo ore 15 innanzitutto con il graditor a parte il risultato è stato veramente bello rivedere la gradinata perché purtroppo la curva nord è chiusa per i lavori nuovamente con gli striscioni di tutti i gruppi organizzati le bandiere quindi che non ci sono più questi permessi negati per entrare striscioni e bandieri di larghe misure quindi anche lo stadio anche la cornice oltre il pubblico anche i vessilli la fanno da padrona per quanto riguarda la partita sarà una partita che entrambi gli allenatori si giocheranno a viso aperto perché il Foggia vuole muovere la classifica quindi con una vittoria e anche il Taranto vuole continuare e realizzare la seconda vittoria in una settimana anche perché vincere significherebbe poi affrontare il derby di Bisceglie che quindi diventerebbe un match clou con ampio con migliore mentalità possibile soprattutto per influire con il morale soprattutto anche con il morale molto importante ecco perché è stata veramente importante la vittoria di mercoledì una vittoria che in pochi credevano il sottoscritto invece nei minuti finali ci credeva tra l'altro avendo una scommessa con il signore che lì sta sorridendo allora niente non riusciamo ad avere magari online siamo nei minuti finali c'è qualche messaggio? è appena arrivato ecco lo leggo proprio giusto è arrivato in diretta ciao sono Francesco forza Taranto anche se questo derby sarà difficilissimo il nostro sostegno non mancherà mai forza Taranto sempre al tuo fianco e con questo messaggio forza Taranto sempre al tuo fianco noi chiudiamo la nostra trasmissione ringrazio il collaboratore Giuseppe Genghi grazie Giuseppe ciao Daniele grazie a te i nostri ospiti qui in studio e a tutto il pubblico rosso blu che ci segue da casa un saluto e al sabato prossimo ringrazio il professor Nuzio Di Biasi il nostro opinionista grazie a te buon pomeriggio a tutti grazie anche ad Andrea Novelli di Mondo Rosso Blu ciao Daniele grazie a te un saluto a tutti ringrazio il regista Luca De Vito che ha curato la regia oggi Antonio Nisi per la grafica mi ricordo un po' di appuntamenti domani sempre con Brustada ci sarà la trasmissione studio o stadio domani sera invece vi aspetto con Spazio Tif alle ore 21 diamo spazio alle vostre telefonate ma soprattutto vi faremo vedere le immagini risalienti e gli lights di questo derby divertente tra Taranto e Foggia chiudiamo un po' con la grafica di oggi di fuorigioco che parla di derby divertente vi aspetto domani tutti allo stadio Erasmo Iacovone buon proseguimento con i programmi di Bluestar TV e sempre Forza Taranto ciao da Daniele Creti questo programma è stato offerto